Scoprire la tenerezza di te è come assistere al pane appena sfornato, profumato e fragrante, merito dell'impasto e delle mani sapienti che lo hanno lavorato. La tenerezza di te è nata dalla sofferenza di una giovinezza non vissuta, ma desiderata nel pensiero di poter vivere la vita come in un romanzo, con passione, dedizione e con quel particolare senso di gioia che si chiama amore. Ora, nella metafora del pane è la dolcezza di te, del tuo viso, dei tuoi occhi, delle tue labbra, del tuo mondo, ed entrare per un attimo nel tuo cielo è come conoscere un po' più di te, ed assaggiando come afrodisiaco il tuo miele, e comprendere come può essere solo poter vivere un grande amore sulle ali della leggerezza come una splendida farfalla. Quando si apre il cuore, terza voce di Mauro Mazza. Grazie. 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 Grazie.